allora benvenuti mi sentite benvenuti oggi il corso di fisica matematica si è spostato in accademia delle scienze è un piacere dare il benvenuto al professor russo di cui vi ho annunciato la lezione è un piacere vedere vedervi così numerosi e anche gli ospiti accademici e che quelli che vengono da fuori dell'accademia il corso di fisica matematica 1 ogni anno propone ormai da diverso tempo la lezione del professor russo e ci sono delle motivazioni per questo le motivazioni sono state scritte così bene da carlo rovelli che io da un paio d'anni leggo uno stralcio un commento che rovelli ha scritto qualche anno fa lucio russo è un personaggio singolare nel panorama intellettuale italiano a cavallo tra discipline diversissime è difficile da collocare ma molti studiosi tra cui sono felice di annoverarmi hanno per lui un'ammirazione che sfiora l'adorazione questo è rovelli i suoi libri hanno avuto un impatto profondo per me hanno cambiato la visione di cosa sia la scienza la visione della storia e hanno riorientato i miei interessi culturali rovelli è uno scrittore straordinario oltre a essere uno scienziato e sa cogliere veramente il punto questo quando l'ho letto ho detto ecco questo è esattamente quel che quel che penso io allora io sono entrato in contatto in diretto col professor russo quando avevo più o meno la vostra età forse un anno due di più studiando i suoi lavori di meccanica statistica in particolare nella teoria della percolazione una parte importante che è diventata una parte importante della teoria della probabilità dopo l'ho conosciuto di persona perché è venuto a fare delle lezioni alla scuola di dottorato a trieste nei primi anni novanta lezioni indimenticabili dove tra l'altro ho notato che oltre agli studenti del noi studenti di dottorato c'erano tutti i colleghi internazionali del 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 professor russo quindi c'erano tutti i miei professori di roma c'era iona lasinio c'era c'erano gian fausto dell'antonio quindi è stato veramente un evento fondamentale l'altro professor russo ha presentato quello che allora era un libro nuovo la rivoluzione dimenticata che è quello a cui si riferisce uno dei testi a cui si riferisce a rovelli non aggiungo altro per non rubare tempo al nostro relatore lascio a lui la parola grazie di questa bella introduzione e come diceva Pierluigi appunto questo mio intervento è innanzitutto un una lezione del corso di fisica matematica e da qualche anno appunto faccio una lezione all'anno nel corso di Pierluigi quest'anno ho pensato che dovendo parlare a studenti di un corso di fisica matematica cioè di un corso in cui il cui nome ha la parola fisica come sostantivo e matematica come aggettivo potrebbe essere utile a cercare di far riflettere sul significato di queste due parole diciamo cioè capire cosa sono la fisica la matematica e qual è il confine allora c'è una visione ingenua insomma per cui sembra del tutto chiara quale sia la differenza ci sono ad esempio il teorema di Pitagora è considerato un risultato di matematica la legge di Snell sulla rifrazione è considerato un risultato di fisica non a caso l'uno si chiama teorema l'altro si chiama legge e qual è qual è la differenza e la prima cosa che può venire in mente è che il teorema di Pitagora appunto è un teorema che si dimostra a partire dai postulati mentre la legge di Snell ha una base sperimentale ecco però se riflettete un po' più a lungo vedete che questa distinzione non funziona perché che il quadrato costruito sull'ipotenusa sia equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti lo sapevano anche gli scribi paleo babilonesi che non avevano la minima idea di cosa fosse un teorema di cosa fosse la matematica quindi per loro era un fatto sperimentale era un risultato fisico insomma quindi quello che è una legge fisica può diventare col tempo un teorema di matematica se si riesce a dimostrarla d'altra parte se è pensata alle leggi della rifrazione anche queste si possono dimostrare come un teorema se uno assume i postulati giusti per esempio assume come postulato il principio del minimo cammino ottico dopodiché dimostra come teorema la legge di Snell della rifrazione e magari qualcuno può pensare che questo è un risultato successivo perché è venuto prima il risultato sperimentale poi qualcuno si è accorto non è così perché se uno legge i lavori di Ibn Sal intorno al 980 dopo Cristo lui conosceva la legge della rifrazione lo conosceva come una conseguenza del principio di minimo quindi in questo caso è un risultato matematico che poi è diventato fisico diciamo quando non si è ricostruito la dimostrazione visto solo che era valido sperimentalmente quindi il confine non è così ovvio diciamo io ricordo un importante fisico matematico russo mi sembra fosse Dobrushin che in una conferenza disse che si era accorto che nel dipartimento di matematica e il dipartimento di fisica si studiava esattamente la stessa cosa però usando una terminologia diversa i matematici studiavano processi di Markov a più dimensioni mentre i fisici stavano studiando sistemi di meccanica statistica con interazione al primo vicino e si erano accorto poi che stavano studiando lo stesso oggetto quindi voglio dire queste cose che ho detto se non so dire che la distinzione non è ovvia come può apparire a prima vista e allora quello che pensavo di fare era un breve escursus storico insomma vedere come sono nati questi parole anche e i concetti e come sono cambiati nel tempo perché cosa fosse la matematica cosa fosse la fisica non è stata come dire il confine non è rimasto stabile nel tempo tutto altro insomma quello che si intende per matematica dell'antichità era molto diverso quello che si intende per matematica oggi e allora appunto come come nasce il termine fisica nel senso di disciplina è più antico naturalmente tutte e due sono parole greche non è un caso insomma no che si si voglia del greco per capire che significa sia matematica che fisica e chi ha studiato il greco ormai sono pochi credo gli studenti di un corso di fisica matematica sa che significa fisica insomma c'è il verbo fiuo significa nasco genera mi trasformo da qui viene fiusis il cui calcolatino è natura diciamo quindi fiusicos significa che naturale che che riguarda la natura e quindi il neutro pluralità fisica corrisponde al latino a naturalia c'è tutto ciò che riguarda la natura e tutti i filosofi preso quasi tutti diciamo i filosofi presocratici avevano scritto un trattato che si chiamava per i fiusos cioè sulla natura e per questo furono chiamati fiusicoi che si può traslitterare fisici però non aveva il significato della fisica attuale insomma si era semplicemente studioso della natura nella scuola stoica si distingueva nella filosofia tre settori la filosofia della natura la logica e l'etica e la filosofia della natura era appunto la fisica quindi il termine fisica greco corrisponde più o meno esattamente al nostro filosofia della natura il termine matematica ha una diversa origine c'è viene dal verbo mantano che significa prendo imparo quindi matema è l'oggetto di apprendimento ciò che si studia e matematicos è ciò che riguarda l'oggetto dello studio quindi matematica e la matematica è tutto ciò che riguarda ciò che si studia diciamo quindi diciamo tutti e due termini in effetti sono estremamente generici no questo va sottolineato credo perché molte altre discipline hanno un termine che ha relazione con l'oggetto della disciplina quando parla di zoologia di botanica di geologia significa studio diciamo delle piante degli animali della terra invece fisica e matematica uno riguarda tutta la natura e l'altro riguarda tutto lo studio ancora più generico insomma quindi non c'è speranza di capire il significato dall'esame dell'etimologia delle parole insomma ecco volevo leggere un passo di anatolio che è un passo tardo del terzo secolo dopo cristo però mi sembra abbastanza divertente in cui si chiede perché la matematica è chiamata così naturalmente lo scrive in greco quindi chi legge matematica significa ciò che riguarda lo studio però ai suoi tempi era già il nome di una disciplina dici per i patetici che dicono che la retorica la poesia e la musica popolare possono essere praticate anche senza essere studiate ma che nessuno può capire le cose che vengono chiamate con il nome matematica senza averle prima studiate rispondono e per questa ragione la teoria di queste cose è detta matematica quindi la matematica si chiama così perché bisogna studiarla questo era chiaro d'anatolio dovrebbe essere chiaro anche oggi ecco però il termine matematica al significato generico che ho detto prima di relativo allo studio non è il nome di una disciplina fino fino a Platone incluso cioè Platone usa il termine matematica nel senso generico che ho detto mentre quando parla di discipline specifiche parla di geometria di stereometria di aritmetica non usava il termine matematica e invece il termine matematica nel senso di un ambito di studio dei confini ben stabiliti appare che io sappia per la prima volta in Aristotele e poi viene usato sistematicamente nel periodo successivo nel periodo ellenistico ecco cos'era la matematica nel periodo ellenistico era un insieme di discipline molto vasto rispetto al concetto di matematica che abbiamo noi oggi cioè facevano parte della matematica l'aritmetica la geometria ma anche la meccanica l'ottica l'astronomia l'idrostatica e altre cose quindi volendo tradurre il termine antico matematica la traduzione migliore secondo me sarebbe scienza esatta certamente comprendeva ciò che noi intendiamo con matematica insieme alla fisica ecco cosa riuniva tutte queste discipline perché avevano lo stesso nome ricadevano tutte nell'ambito della matematica e l'unità era metodo metodologica cioè tutte queste discipline avevano lo stesso metodo e ci sono due colonne fondamentali importanti diciamo del metodo matematico uno è il metodo dimostrativo cioè tutte le discipline matematiche si sviluppano dimostrando teoremi ora il concetto di teorema in genere è associato dai ragazzi credo soprattutto alla geometria nella scuola secondaria perché il testo di euclide è rimasto fondamentale nella storia della didattica diciamo e quindi ma come si come euclide dimostra teoremi di geometria così archimede dimostra teoremi di meccanica teoremi di idrostatica euclide stesso dimostra teoremi di ottica per loro non c'è differenza sono vari settori della matematica appunto che hanno lo stesso metodo dimostrativo ecco l'altro elemento fondamentale è il rapporto con i fatti osservabili cioè le teorie matematiche erano valide se oltre ad essere coerenti quindi contenere proposizioni dedotte in modo rigoroso dai principi dei postulati riuscivano a salvare i fenomeni fenomeno soze nel progetto fondamentale che dove essere osservato e questo era vero il rapporto con i fenomeni era chiaro in geometria perché i fenomeni corrispondenti erano i disegni con riga e compasso per la geometria piana diciamo che erano degli oggetti concreti e reali come in ottica la parola ottica originale greco optiche significava teoria della visione diciamo era un modello matematico del modo in cui crediamo e quindi il rapporto con il concreto c'era in ottica e meccanica la meccanica significa scienza dalle macchine relativo alle macchine e anche lì si dimostrano per fare un esempio di un teorema mi sembra significativo nel trattato sui galleggianti di archimede il primo teorema che viene dimostrato e ha come enunciato che la forma delle docene al riposo è una superficie è una sfera la superficie sferica per centro il centro della terra ecco a me sembra sarebbe interessante io credo nei licei dimostrare un teorema del genere perché i ragazzi non pensano che si possono dimostrare teoremi sulla forma degli oceani penso che i teoremi si dimostrano solo sui triangoli su altre cose di geometria sintetica ecco invece si dimostrano teoremi sugli oceani come si dimostrano teoremi sulla macchine teoremi sulla visione e così via ecco dicevo la struttura logica deduttiva delle teorie matematiche era basata su quelli che vengono chiamati postulati noi li chiamiamo postulati c'erano vari nomi in greco in effetti euclide dice ai temata archimede preferisce l'ambanomena però viene usata anche ipotesi per esempio sesto empirico riferimento ai postulati della geometria le chiama ipotesi cioè le chiama con il termine greco che noi abbiamo traslitterato ipotesi e che significato verrà molto diverso da quello attuare della parola ipotesi e questo va sottolineato io credo c'è ipotesi che significa il verbo ipotitemi significa metto sotto quindi ipotesi è ciò che sta sotto è la base il fondamento teofrasto dice che il tronco è la ipotesi degli alberi insomma perché tutti i rami si basano sul tronco partono dalle quindi non c'è niente di ipotetico nel senso attuale della parola e e quindi i fondamenti della teoria quello che noi chiameremo i principi della teoria erano dette ipotesi ipotesi ora dalle ipotesi deve essere possibile ricavare col metodo deduttivo cioè dimostrando teoremi affermazioni in accordo con i fatti osservati quindi devono essere in grado le ipotesi di salvare i fenomeni però se era possibile dedurre i fenomeni dall'ipotesi non era certamente possibile dedurre dai fenomeni la ipotesi cioè significa che non si poteva dare un valore di verità alle ipotesi cioè l'unica cosa di cui possiamo essere certi sono i fenomeni cioè ciò che osserviamo ecco anche la parola fenomeno ha cambiato significato in greco fenomeno significa ciò che si appare quindi ciò che si osserva il punto di partenza come dire logico della teoria sono i postulati o le ipotesi dal punto di eh di partenza euristico per costruire la teoria sono i fenomeni c'è ciò che si osserva e quindi poiché se io ho una teoria dai cui principi riesco a dedurre conseguenze in accordo con i fenomeni questo non assicura che questa sia la teoria vera con la vero scritto con la v maiuscola insomma perché ci potrebbe essere un'altra teoria che salva gli stessi fenomeni magari ne salva di più quindi è migliore quindi non è possibile quindi fenomeno non individua univocamente la teoria io volevo leggere un paio di eh citazioni a questo proposito una risale a Epicuro quindi siamo proprio all'inizio del periodo ellenistico nella lettera Pitocle Epicuro scrive nel caso in cui si accetti una spiegazione rifiutandone un'altra altrettanto concordante con i fenomeni è chiaro che si cadrebbe al di fuori di ogni discorso di filosofia della natura e si scivolerebbe nel mito ecco a me sembra un'affermazione estremamente moderna insomma l'idea che se due eh principi diversi riescono a salvare allo stesso modo i fenomeni non posso scegliere tra i due e se dico che uno è vero e l'altro è falso sto cadendo nel pensiero mitico però questo questo brano eh molti anni fa fu dato da tradurre come compito alla maturità classica diciamo e un illustre grecista molto illustre lo commentò sul Corriere della Sera dicendo che Epicuro scriveva queste cose perché la sua epoca il metodo scientifico non era ancora nato insomma quindi non poteva sapere che che la scienza fa affermazioni vere distingue da quelle false e che dimostra che gli illustri grecisti non hanno idea di cosa sia il metodo scientifico insomma chiaramente era più chiaro ad Epicuro e l'altro brano ancora più interessante ed è nel commento alla fisica di Aristotele di Simplicio quindi va letto tenendo presente che è un commento tardo che risale al sesto secolo dopo Cristo scritto da un aristotelico diciamo quindi in un'epoca in cui si era perso il vero metodo scientifico e in effetti Simplicio eh scrive Gemino ispirandosi alle opinioni di Aristotele dice è proprio dell'indagine fisica questo è interessante perché cerca di chiarire qual è la differenza tra fisica e matematica però non usa mai il termine matematica usa astronomia però il termine astronomia era spesso usato come equivalente a quella di matematica uno dei motivi credo fosse il titolo dell'opera di Claudio Ptolomeo voi sapete che Ptolomeo è stato un grande astronomo dell'antichità insieme la sua opera fondamentale è rimasto il testo di riferimento per l'astronomia fino al sedicesimo secolo diciamo ed è più noto come il nome arabo di Almagesto l'opera di Ptolomeo ma il nome greco era matematichesi un taxis cioè trattato matematico allora se se l'astronomia si studiava su un trattato matematico è chiaro che l'astronomia era matematica insomma quindi quando Simplicio scrive astronomia potete anche leggerlo matematica invece Gemino ispirandosi all'opinione di Aristotele dice è proprio dell'indagine fisica considerare ciò che riguarda la sostanza del cielo e degli astri naturalmente fisica nel senso di filosofia della natura ancora la loro potenza e qualità la loro generazione e corruzione quindi la fisica essendo filosofia della natura studia la sostanza vera delle cose l'astronomia invece non si occupa di tutto ciò il fisico in molti casi coglierà la causa individuando la potenza produttrice mentre l'astronomo dovendo basarsi su ciò che è esteriore non sarà un giusto osservatore della causa a volte l'astronomo attraverso una ipotesi trova il modo di salvare i fenomeni per esempio perché il sole la luna i pianeti appaiono muoversi regolarmente se supponiamo che le loro orbite circolari siano eccentriche o che gli asti si muovono su un epiciclo l'irregolarità che appare sarà salvata qua il riferimento è un teorema di apollonia di perga che aveva dimostrato che un moto composto di un deferente un epiciclo se i periodi sono gli stessi può essere equivalente a un moto descritto con moto circolare uniforme eccentrico e conclude la frase gemino e bisognerà investigare in quanti modi diversi si potranno rappresentare i fenomeni quindi se ho un modo per salvare i fenomeni a questo non si vede non ce ne possono essere altri insomma quindi ci possono essere molti modi diversi ora volevo osservare questa idea che i fenomeni possono essere salvati in molti modi diversi implica banalmente il falsificazionismo che in genere è attribuito a popper cioè se ho varie teorie posso spiegare gli stessi fenomeni è chiaro che l'osservazione di un fenomeno può falsificare una teoria ma non può mai verificarlo perché posso sempre pensare che ci sia un'altra teoria che salva i fenomeni quindi l'idea del falsificazionismo risale per lo meno gemino questo mi sembra che vada sottolineato mentre la fisica ancora nella tarda antichità era concepita come un ramo della filosofia che ambiva a raggiungere la verità assoluta diciamo cosa che i veri scienziati che hanno chiamato i matematici sapevano di non poter fare ecco cosa succede nei secoli successivi beh all'epoca di simplicio si era già eh perso diciamo il metodo scientifico nel medievo si perde ulteriormente però non si perde il ricordo della metodologia scientifica e questo ricordo è salvato per esempio da Tommaso d'Aquino questo è un fatto che può sembrare strano ma secondo me è interessante e volevo leggere un passo della summa teologica di Tommaso d'Aquino e Tommaso scrive ci sono due modi diversi di rendere conto di una cosa il primo consiste nello stabilire con una dimostrazione sufficiente l'esattezza di un principio da cui questa cosa deriva così in fisica si dà una ragione sufficiente a provare l'uniformità dei moti del cielo quindi quella fisica Tommaso è ancora la filosofia della natura che arriva alla verità assoluta per esempio dimostra che certamente i moti sono uniformi cosa che tra l'altro è falsa ovviamente no però perché lo deduce da un principio che che è stato stabilito con certezza un secondo modo di rendere ragione di una cosa consiste non nel dimostrarne il principio con una prova sufficiente ma nel far vedere come gli effetti si accordino a un principio precedentemente posto così in astronomia si rende conto degli eccentrici e degli epicicli per il fatto che per mezzo di queste ipotesi si possono salvare le apparenze sensibili apparenze naturalmente una traduzione di fenomena relative ai moti celesti ma non è questo un motivo sufficientemente probante perché questi moti apparenti si potrebbero salvare anche per mezzo di un'altra ipotesi quindi in questo passo di Tommaso d'Aquino da una parte è chiaro l'antico metodo scientifico dall'altra è considerato inferiore diciamo il metodo teologico o della filosofia naturale perché perché l'astronomo e il matematico non può arrivare alla verità perché può solo avere ipotesi che salvano i fenomeni mentre la verità ci si arriva con la filosofia della natura con la teologia quindi coesistono questi due aspetti insomma noi ricordo da un metodo scientifico e l'idea che sia un metodo inferiore rispetto a quelli che sono imposti nel medioevo ecco cosa succede nella prima età moderna per esempio si conserva la distinzione dei termini matematica e fisica continua a essere quella dell'antichità per esempio Copernico una lettera dedicatoria del De Revoluzionibus che è l'unica sua opera scrive una frase che è rimasta famosa matemata matematici su scrivonto cioè le cose di matematica si scrivono per i matematici insomma il profano può fare meno di reggerle perché sono rivolte solo agli scienziati però l'aspetto che volevo sottolineare adesso è che per lui è ovvio che il contenuto del De Revoluzionibus che è un'opera chiaramente di astronomia è matemata sono matemata cioè matematica quindi la matematica comprende ancora lo studio dei fenomeni naturali ecco volevo leggere un passo di Galileo nei discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze e il passo è pronunziato da Sagredo che è uno dei personaggi del dialogo e parla di Galileo Galileo parla di se stesso facendo fare affermazioni da Sagredo su il nostro accademico lo chiama si riferisce a Galileo chiaramente e scrive parmi veramente che concedersi possa al nostro accademico che egli senza iattanza abbia nel principio di questo suo trattato potuto attribuirsi di arrecarci una nuova scienza intorno a un soggetto antichissimo la nuova scienza è la scienza del mondo c'è la meccanica di cui parla Galileo è una delle due nuove scienze dei discorsi e il vedere con quanta facilità e chiarezza da un solo semplicissimo principio ed educa le dimostrazioni di tante proposizioni mi fanno un poco meravigliare come tal materia sia passata intatta da Archimede, Apollonio, Euclide e tanti altri matematici e filosofi illustri e massime che del moto si trovano scritti volumi grandi e molti quindi la teoria del moto che noi chiameremo meccanica di Galileo Galileo si meraviglia che non sia stata già scritta da Euclide o da Archimede per lui è matematica non a caso Galileo aveva il titolo di matematico del Gran Duco di Toscana non si considera un matematico quindi l'idea che la matematica studi tutti i fenomeni naturali mentre la fisica sia la filosofia della natura è ancora chiara all'epoca di Galileo ecco a proposito dell'epoca di Galileo volevo anche leggere un'altra testimonianza che è molto citata però in genere è citata solo una parte volevo leggere anche la seconda parte c'è quello che scrive Bellarmino nella lettera al frate Paolo Antonio Foscarini parlando appunto di Galileo e Bellarmino scrive dico che mi pare che vostra paternità e il signor Galileo facciano prudentamente accontentarsi di parlare ex supposizione quindi usando l'antico metodo matematico partendo dalle ipotesi e non assolutamente come io ho sempre creduto che abbia parlato il Copernico perché il dire che supposto che la terra si muova ed il sole sia fermo si salvano tutte le apparenze di nuovo l'apparenza è una tradizione di fenomena naturalmente meglio che non porre che comporre gli eccentrici ed epicicli quindi che il sistema idocentrico è superiore a quello tolemaico da questo punto di vista è benissimo detto e non ha pericolo a nessuno e questo basta al matematico quindi il matematico è lo scienziato l'astronomo ma volere affermare che realmente il sole stia nel centro del mondo e solo si rivolte in se stesso senza correre dall'oriente all'occidente e che la terra stia nel terzo cielo e giri con somma velocità intorno al sole è cosa molto pericolosa non solo di irritare tutti i filosofi e teologi scolastici manco di nuocere la santa fede con rendere false le scritture sante ora è abbastanza chiaro che Bellarmino ripete gli argomenti di Tommaso e Tommaso riprendeva quelli di semplicio facevano lo stesso esempio che si poteva salvare allo stesso modo i fenomeni con gli eccentrici o con gli epicicli ecco questo brano quindi come nel caso di Tommaso c'è il ricordo chiaro dell'antico metodo scientifico e c'è però l'idea che proprio quel metodo sancisce un'inferiorità diciamo della scienza che viene chiamata matematica rispetto alla teologia però io volevo leggere anche il brano successivo che in genere non è citato e Bellarmino continua dopo qualche frase che ometto dico che quando ci fosse vera demostrazione che il sole sia nel centro del mondo e la terra nel terzo cielo e che il sole non circonda la terra ma la terra circonda il sole allora bisogneria andare con molta considerazione in esplicare le scritture che paiono contrarie e piuttosto dire che non lo intendiamo che dire che sia falso ciò che si dimostra ecco qua c'è un grande rispetto nel metodo scientifico direi se c'è una vera dimostrazione che contraddice le scritture io non devo credere alla dimostrazione devo dire che la colpa è mia che non capisco le scritture non osa dire che sono false le scritture ovviamente però bisogna tenersi alla dimostrazione ma io non crederò che ci sia stata dimostrazione finché non mi sia mostrata né lì stesso dimostrare che supposto che il sole sia nel centro della terra nel cielo si salvano le apparenze e dimostrare che in verità il sole sia nel centro della terra nel cielo perché la prima dimostrazione credo che ci possa essere ma della seconda ho grandissimo dubbio e in caso di dubbio non si deve lasciare la scrittura santa esposta dai santi padri e naturalmente Galileo credeva di aver dimostrato di aver dato una prova sufficiente del moto della terra grazie alla sua teoria delle maree ma la teoria delle maree era sbagliata quindi aveva ragione Bellarmino non c'è dubbio, non c'era questa dimostrazione ecco quindi ancora all'epoca di Bellarmino a parte questa idea che la matematica sia inferiore alla teologia e alla filosofia per il suo metodo però si mantiene il ricordo di qual è il metodo della scienza e si mantiene l'idea che la matematica si occupa di tutte le scienze della natura mentre fisica è il termine che individua una parte della filosofia ecco quando nasce l'idea attuale insomma che invece la matematica non si deve occupare della natura sostanzialmente direi con Newton e questo si vede già dal titolo direi del capolavoro di Newton in cui Newton scrive la sua opera fondamentale la chiama filosofia naturalis principia matematica quindi la parola matematica c'è ma è un aggettivo come nel nome del corso di Pierluigi Contucci mentre il sostantivo è la filosofia della natura cioè la fisica ora perché c'è questo rifiuto di considerarsi matematico come se era considerato Copernico, Galileo perché rifiuta l'antico metodo scientifico ecco questo è appartemente chiaro secondo me nella prefazione di Roger Coates alla seconda edizione dei principi e Coates scrive coloro che professano la filosofia sperimentale derivano le cause di tutte le cose da principi più semplici possibili e non assumono come principio niente che non sia stato provato dai fenomeni quindi come principio bisogna assumere qualcosa che è provato dai fenomeni cioè si perde l'idea che dai fenomeni non si possano ricavare nessun principio si pensa che i principi possono essere univocamente determinati dai fenomeni non costruiscono ipotesi è famosa la frase di Newton i ipotesi non fingono cioè lui rifiuta di fare ipotesi né le accettano in filosofia se non come affermazioni la cui verità è oggetto di discussione ecco qui nasce il cambiamento di significato dalla parola ipotesi l'antica parola ipotesi come dicevo prima significava base, fondamento, principio però negli antichi scienziati c'era l'idea che le ipotesi di una teoria cioè i principi della teoria non potevano essere individuati univocamente dai fenomeni e quindi non si poteva dire che fossero veri bisogna sospendere il giudizio di verità erano assolutamente vere solo le apparenze e la teoria era una teoria come dire utile, valida se riusciva a salvare l'apparenza però non si poteva dire che era vero allora questa impossibilità di dire la verità non piace a Newton che tra l'altro è anche un teologo dove raggiunge lo stesso tipo di verità della teologia e quindi rifiuta le ipotesi quindi le ipotesi si possono assumere solo come affermazioni la cui verità è oggetto di discussione ed è questo significato attuale della parola ipotesi che si è imposta da allora procedono perciò secondo duplice metodo analitico e sintetico mediante l'analisi deducono ad alcuni fenomeni particolari le forze della natura e le leggi più semplici delle forze dalle quali mostrano poi mediante le sintesi la costituzione del resto è questo quel modo di filosofare incomparabilmente migliore che il nostro celeberrimo autore abbracciò a preferenza degli altri ecco quindi ecco io sono convinto in genere non si dà queste interpretazioni che secondo io l'affermazione di Newton l'ipotesi se non fingo non viene vista come una regressione rispetto al metodo antico però a me sembra abbastanza chiaro che sia così cioè lui non fa ipotesi perché rifiuta l'antico metodo matematico ecco interessante che in questa epoca cambia il significato della parola ipotesi ma cambia il significato di molte altre parole cambia il significato delle parole matematiche e fisiche cambia il significato della parola fenomeno come dicevo fenomenon significa apparenza quindi il fatto che il punto di partenza della teoria siano le apparenze significa il punto di partenza e se volete l'interazione tra l'osservatore e l'oggetto osservato però è fondamentale questa interazione mentre la parola fenomeno dopo Newton veramente si conserva nel lessico filosofico il significato greco originale in Kant il fenomeno è opposto al noumeno ed è l'antico fenomeno però nel linguaggio scientifico diventa un accadimento un avvenimento che è possibile osservare però che è qualcosa di oggettivo che accade in natura e si dimentica il ruolo dell'osservatore questo implica un cambiamento significato anche di altre parole per esempio cambia il significato della parola ottica il punto di partenza degli studi antichi dell'ottica qual era? erano i fenomeni appunto il fenomeno da cui partiva la scienza dell'ottica era la visione quindi ottichè significa relativo alla vista relativo alla visione quindi diciamo la disciplina moderna che assomiglia di più all'antica ottica è l'ottica fisiologica Euclide aveva costruito un modello matematico della visione e invece i moderni con ottica intendono la scienza della luce lasciare la scienza di un fenomeno della natura che non che è indipendente dal modo in cui viene osservato ecco naturalmente questo cambiamento di significato delle parole rende difficile reinterpretare anche le opere della scienza antica io volevo fare qualche esempio per esempio rimanendo nel caso dell'ottica di Euclide nel 1918 Giuseppe Ovio che era uno studioso italiano di ottica fisiologica tra l'altro pubblica una traduzione in italiano dell'ottica di Euclide e premette diciamo a questa traduzione una sua introduzione in cui critica la teoria di Euclide e dice in questi due libri di ottica è ammessa quella teoria della visione secondo la quale i raggi visivi partirebbero dall'occhio e andrebbero dagli oggetti oggi di come è noto a tutti questa teoria non è più sostenibile ammettendosi invece il cammino inverso dei raggi cioè dagli oggetti all'occhio ecco questo mi sembra interessante perché Ovio non ha capito niente dal modello di Euclide lo dimostra con questa affermazione perché non l'ha capito non l'ha capito essenzialmente perché l'antica ottica era parte della matematica ovvio lo legge come parte della fisica e quindi pensa che siccome si chiama ottica debba studiare i raggi di luce e quindi questi raggi che partono dall'occhio gli sembrano qualcosa di assurdo in realtà nell'ottica di Euclide Euclide parla di due tipi di raggi che parla con termini diversi le opseis e le actines gli actines sono i raggi di luce e non si sogna di dire che partono dagli occhi nessuno pensa di poter illuminare una stanza buia guardando è una follia assurda attribuire un'idea del genere Euclide invece quelle che partono dagli occhi sono le opseis cioè i raggi visuali perché per vedere qualcosa non basta che sia illuminato bisogna anche guardarlo e quindi io quello che vedo sono le cose che sono raggiunte da semirette che partono dalla pupilla e arrivano all'occhio senza che sia interposto un oggetto opaco che schermi il raggio visuale però il raggio visuale sono quelle opseis sono semirette interne al modello matematico che sono semirette quando hanno l'origine della pupilla ma non c'è un verso di percorrenza non si parla mai di un verso in cui si propaga l'opsis diciamo allo stesso modo le rette della geometria non hanno spessore per esempio ovvero potete dire le rette di Euclide sono assurde perché tutti i fili hanno uno spessore insomma e lui non se ne è accorto che non ce l'hanno però perché non lo dice perché nel caso della geometria siccome si era continuato a studiare studiando gli elementi di Euclide il rapporto diciamo tra lente astratto retta e gli oggetti concreti come erano i fili i raggi di luce era chiaro era chiaro che che le rette potrebbero essere utili per studiare i fili ma non erano fili insomma mentre nelle discipline che rientriamo sotto il nome di fisica questo rapporto diciamo tra gli oggetti concreti e il modello diventava molto meno chiaro e quindi si tendeva a come dire oggettivizzare diciamo l'oggetto teorico come se fosse qualcosa di concreto e continua ovvio fa un'altra affermazione secondo Euclide i raggi visivi starebbero a qualche distanza fra loro questa opinione fa oggi sorridere ecco lui rideva dell'idea che queste opseis che partivano dalla pupilla erano un insieme discreto di semiretto non è un insieme continuo ora It che è stato un grande storico della scienza greca molto più importante di ovvio fa un'affermazione quasi identica dice che ci fa ridere quest'idea di Euclide che ora siccome i raggi visuali di Euclide sono un modello matematico del del processo fisiologico della visione il fatto che sia un numero discreto diventa comprensibile se uno prolunga queste opseis all'interno del globo oculare al di là della pupilla allora capisce che questo numero discreto corrisponde al fatto che c'è un numero discreto di punti della retina che sono interessate alla visione e infatti c'è un numero discreto di terminazioni nervose che raggiunge la retina e quindi l'informazione non può essere infinita d'accordo e allora con questa idea del numero discreto Euclide riesce a spiegare perché allontanando un oggetto non solo sembra più piccolo ma si vedono meno bene i dettagli cioè l'informazione ricevuta diventa minore perché è colpita da meno obses e lui lo dice la vista è tanto più acribos la parola greca è tanto più precisa nitida quanto maggiore è il numero di raggi visuali che colpisce l'oggetto questo si spiega appunto con il numero finito di fotorecettori ora io credo che Euclide interagisse con Erofilo che aveva fatto una descrizione accurata della retina e stava ad Alessandria negli stessi anni di Euclide lavorava al museo anche lui insomma probabilmente era interagito e si era accorto della natura discreta della retina naturalmente aveva potuto vedere solo la rete dei capillari diciamo non i singoli fotorecettori però questa struttura di rete per cui c'è il nome il nome dato da Erofilo la rete è Arachnoides Ragnatela e suggerisce che ci sia una struttura discreta insomma quindi credo che ci fosse un'interazione di questo tipo quindi quindi quello che volevo sottolineare è che diventa difficile capire la scienza antica grazie a questo mutamento di significato delle parole poi naturalmente in seguito è stato capito insomma dalle igiene in particolare la natura di modello dell'ottica di Euclide però nel 1918 non si era capito ancora ecco analogamente non si capisce bene l'idrostatica di Archimede cioè Archimede ha scritto l'idrostatica era una parte della matematica come dicevo prima quindi fa dei postulati poi deduce teoremi e uno dei teoremi di Archimede in uno dei teoremi che dimostra Archimede dimostra che se immerga un corpo in un liquido per esempio in acqua questo riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del liquido spostato questo è un teorema e in epoca moderna che si fa si cancella la dimostrazione e si trasforma il teorema in un principio perché? perché quella è fisica i teoremi si dimostrano in geometria insomma quindi aveva sbagliato Archimede a dimostrarlo diciamo diciamo che è un principio che a base sperimentale e facciamo prima l'imprema memoria non c'è bisogno di dimostrarlo volevo fare qualche un'altra citazione molto breve assegnato è di Einstein e mi sembra interessante perché alcuni dei migliori scienziati continuano a riconoscere l'unità della scienza esatta e io trovo che spesso i grandi scienziati fanno affermazioni anche sulla storia della scienza che sono più profonde di quella degli storici di professione insomma per esempio Einstein scrive se la geometria di Euclide è vista come la scienza dalle possibili relazioni mutue di corpi praticamente rigidi nello spazio cioè se la si tratta come una scienza fisica evitando di astrarre dal suo originale contenuto empirico l'omogeneità logica tra geometria e fisica teorica divene completa cioè lui considera fisica la geometria di Euclide invece di considerare matematica la fisica teorica però l'idea dell'unità è chiarissima ad Einstein insomma la disciplina di cui si occupa lui non è diversa da quella di cui si occupa Euclide insomma fallo tra diciannovesimo e ventesimo secolo insomma e ci sono due fenomeni secondo me di segno opposto cioè da una parte l'antica idea che che i fenomeni non possono individuare univocamente le teorie viene recuperata essenzialmente da parte di Dwayne e Quine insomma viene chiamata sotto determinazione delle teorie insomma e spesso viene considerata un'idea moderna però io volevo sottolineare che Dwayne aveva scritto un libro il cui titolo era Phenomena cioè uno studioso della scienza antica e questo credo non sia indipendente dal recupero di quest'idea che nella scienza antica era molto chiara però allo stesso tempo c'è un fenomeno per certi aspetti opposto cioè i matematici hanno un rapporto complesso con la matematica antica in realtà il rigore della matematica antica non era stato recuperato secondo me fino alla seconda metà dell'ottocento no gli studenti studiano analisi matematica e naturalmente la vedono come una teoria rigorosa ma è chiaro che perché l'analisi matematica possa essere una teoria rigorosa è essenziale che esista una teoria dei numeri reali se non ho una teoria dei numeri reali non posso fare analisi in modo rigoroso ora la teoria dei numeri reali nasce nel 1872 grazie a Weiss e a Sedekend che significa che prima del 1872 l'analisi matematica non era una teoria rigorosa e come nasce nasce recuperando la definizione 5 del quinto libro di Euclide c'è la definizione di proporzione essenzialmente che aveva dato Euclide Euclide ha il problema di definire i rapporti tra le rondezze inconmensurabili per fare questo per poter fare la teoria della similitudine in geometria deve stabilire che Sivia che A sta B come C sta D anche se A, B, C e D sono quattro segmenti che non hanno rapporto in base alla terminologia precedente nel senso che sono inconmensurabili A, inconmensurabili con B e C ora è chiaro che i rapporti tra le rondezze inconmensurabili e questa è la terminologia di Euclide corrisponde esattamente ai nostri numeri irrazionali d'accordo quindi fare una teoria rigorosa dei numeri irrazionali quindi dei numeri reali che comprendono il nazionale e il nazionale significa fare una teoria rigorosa dei rapporti tra inconmensurabili e questa era la teoria proporzione di Euclide ecco la cosa non è del tutto ovvia perché nel frattempo era cambiata la terminologia cioè mentre per Euclide gli enti fondamentali sono le rondesse geometriche in particolare i segmenti per esempio un esempio che facevo io nell'età moderna gli enti fondamentali diventano i numeri quindi bisogna tradurre quello che dice Euclide nel nuovo linguaggio numerico però è abbastanza chiaro che semplicemente la traduzione è un linguaggio diverso traduzione fatta da persone come Vars e Sedet che indicavano studiato gli elementi di Euclide a scuola perché era il manuale che si usava all'epoca quindi è chiaro che c'è una derivazione diretta diciamo della teoria dei numeri reali quindi dall'analisi della possibilità di dare rigore all'analisi dalla lettura diciamo di questo testo del terzo secolo avanti Cristo io credo che questa è una cosa che vada sottolineata perché in genere non lo sanno né i grecisti né i matematici insomma ora che succede che dopo che si è recuperato il rigore di Euclide si va nella direzione di aumentare il rigore perdendo però l'altra l'altra gamba dal metodo cioè il rapporto col mondo concreto per cui si crea una teoria assiomatica dalla matematica per esempio Hilbert nelle Grundwagen del Geometry diciamo fa una teoria rigorosa della geometria euclidea sostituendo i postulati di Euclide con 20 assiomi però poi afferma questa è un'affermazione che uno scrive per raccontare Otto Blumenthal nella sua biografia di Hilbert che invece dice dire punti rette e piane ci avrei potuto dire tavoli, sedie e boccali di birra non cambiava niente quindi si perde completamente il rapporto tra la geometria e il contenuto empirico che Einstein non avrebbe voluto abbandonare insomma cioè i disegni che si possono fare su un foglio di carte non a caso poi i burbachisti penseranno che bisogna insegnare la geometria anche nelle scuole secondarie evitando accuratamente di fare qualsiasi disegno quindi c'è l'idea che bisogna che la matematica per essere rigorosa deve astrarre completamente dal fatto che esiste il mondo e si debba autofondare insomma progetto che poi si è rivelato impossibile insomma grazie anche ai teoremi di Geder direi una mi sembra significativo che in seguito a questa idea che la fisica si occupa del mondo mentre la matematica non se ne deve occupare diventa un problema irrisolubile come mai i fisici usano la matematica non si capisce bene e quindi non è un caso che nel 1960 Wigner che poi avrebbe vinto il premio Nobel per la fisica scrisse un un saggio il cui titolo era l'irragionevole efficacia della matematica nelle scienze della natura cioè il fatto che la matematica fosse efficace nelle scienze della natura è visto come qualcosa di irragionevole insomma non si capiva perché ed effettivamente se la geometria si occupa di tavole e buccare di birra non si capisce perché dovrebbe essere utile in fisica insomma ecco un tentativo di ricostruire la l'unità antica della scienza esatta si può vedere nella fisica matematica la fisica matematica nasce diciamo nell'ottocento come un ramo della fisica è diventato un ramo della matematica anche questo è interessante cioè la fisica era divisa in due settori la fisica sperimentale e la fisica matematica Enrico Fermi si considerava un fisico matematico prima che si trissero per lui la prima cattedra italiana di fisica teorica scriveva lavori che considerava di fisica matematica e la società italiana di fisica comprendeva fisici sperimentali e fisici matematici diciamo poi si allarga diciamo la c'è una divaricazione diciamo tra quella che viene considerata vera fisica in particolare la fisica sperimentale e la fisica matematica dovuta alla nascita della fisica teorica direi che si interpone diciamo tra la fisica matematica e la fisica sperimentale per cui la fisica matematica non deve avere più rapporti con la fisica sperimentale in mezzo nasce la fisica teorica che era nata appunto in Germania nel secondo ottocento e però arriva in Italia negli anni venti del novecento nel ventisei se ricordo bene la la prima cattedra di fisica teorica che è occupata da Enrico Fermi ecco ehm e non è facile direi capire che cosa distingue la fisica teorica dalla fisica matematica insomma cioè fare un'analisi eh dello status epistemologico diciamo delle due discipline non credo che sia mai stata fatta non so se se Pierluigi mi può smentire però a me sembra che un e allora volevo leggere dunque credevo di avere scritto una un'ultima citazione che è di Res Jost non so quanti lo conoscono però è stato uno scienziato abbastanza importante tra l'altro è stato un maestro di David Ruel e è stato uno dei fondatori del Communication in Mathematical Physics insieme ad Haag come? e scrive questa è una citazione che io ho trovato sul libro di Whiteman PCT Statistica e Dol Dett negli anni 30 sotto la demoralizzante influenza della teoria quantistica delle perturbazioni la matematica richiesta a un fisico teorico si era ridotta a una conoscenza elementare degli alfabeti latino e greco quindi almeno nell'opinione di Jost diciamo una cosa che caratterizza la fisica teorica è lo scarso uso della matematica e quindi lo scarso uso del rigore insomma ma io volevo dare solo qualche accenno provocatorio diciamo alle situazioni recenti quindi mi limiterei qui insomma e se ci sono delle domande mi farebbe piacere rispondere grazie a tutti grazie a tutti